I ripetuti e devastanti attentati incendiari compiuti ai danni del Ristopab Ciporti di Fasano non avevano una finalità estorsiva ma servivano a convincere il titolare del locale a non testimoniare in un processo penale contro il figlio di un pregiudicato. Dopo mesi di indagini i carabinieri della compagnia di Fasano hanno individuato i presunti autori di una serie di episodi criminosi che, come sottolinea la Procura della Repubblica di Brindisi che coordina le indagini, hanno rischiato di soggiogare un'intera collettività giustamente atterrita per il succedersi di episodi così gravi. Tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite all'alba e altre due agli arresti domiciliari oltre a quattro obblighi di dimora. Nella casa circondariale di Viappia sono finiti Giovanni Potenza, Francesco Cofano e Luigi Conversano, ai domiciliari Simone Palazzo e Giovanni Salerno. Obbligo di dimora per Giuseppe Ditano, Carlo Cofano, Matteo Palmisano e Giuseppe Gallo. Il blitz è stato condotto dai carabinieri della compagnia di Fasano coadiuvati dai militari del nucleo Cinofili di Modugno e dello squadrone Eliportato Cacciatori Puglia. Le indagini condotte dal dicembre 2019 al marzo 2020 hanno permesso di far luce su diversi episodi incendiari avvenuti nei mesi precedenti a Fasano. Si sono concentrate in particolare sulla vittima principale degli attentati. Il titolare del pub Ciporti, che prima aveva subito l'incendio della propria autovettura e della porta d'ingresso del locale e che poi era stato definitivamente dato alle fiamme nel dicembre del 2019. Il mandante, un noto pregiudicato fasanese al quale viene anche contestata la detenzione a fini di spaccio di cocaina, avrebbe commissionato gli incendi a un giovane disoccupato del luogo per costringere l'imprenditore a ritrattare una testimonianza resa nel corso di un altro procedimento penale contro il figlio del mandante, riuscendo nel suo intento. Nel corso delle indagini si è appurato che il giovane disoccupato è anche il responsabile dell'incendio di altre due autovetture e della finestra di una gelateria, agendo in questi casi in autonomia. Le indagini, allargate poi alla cerchia di parenti e amici dei due principali indagati, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di presunti complici che si sono resi responsabili, in concorso fra loro, di numerose cessioni di marijuana e cocaina nel territorio di Fasano, della ricettazione di due auto provento di furto, nonché del furto di un'altra vettura, poi restituita dopo un'estorsione al legittimo proprietario.